Sinti di Gallarate, in attesa dell'incontro di domani che vedrà allo stesso tavolo il sindaco Andrea Cassani e alcuni rappresentanti del campo di Via Lazzaretto, abbiamo raccolto i pareri dei cittadini, discordanti tra loro. Sui social se ne leggono di tutti i colori e ad andarci di mezzo sono spesso le imprese, succede anche con la fatturazione economica, parola di Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio di Varese, nell'economia parliamo anche del ruolo prezioso delle donne in azienda. Al suo debutto in consiglio provinciale la leghista Paola Reguzzoni parla ai nostri microfoni del lavoro che svolgerà ma anche dell'attuale presidente Bustocco Antonelli come l'ex presidente Marco Reguzzoni, suo fratello. Nello sport la pallacanestro con la Open Job Metis che vince il girone di Europe Cup ma anche il Varese Calcio che nella semifinale d'andata di Coppa Italia ha battuto 1-0 il pedizzole. Buonasera, ben ritrovati con la seconda edizione del Tg di Rete 55, sinti di Gallarate in attesa dell'incontro di domani che vedrà allo stesso tavolo il sindaco Cassani, alcuni rappresentanti del campo di via Lazzaretto. Ascoltiamo oggi il parere dei cittadini raccolto da Deborah Manfi. C'è chi pensa ai bambini e al loro futuro, chi punta i piedi sul valore assoluto della legge, chi ritiene sia opportuno trovare una nuova sistemazione prima di radere al suolo l'area di via Lazzaretto e chi ha perso la pazienza e pretende che le abitazioni abusive vengano demolite subito. La decisione di sgomberare il campo sinti di Gallarate, presa dal sindaco Andrea Cassani, non mette tutti d'accordo. I cittadini sono divisi e non è difficile raccogliere le loro opinioni. In centro città, a poche ore dalla manifestazione organizzata dagli stessi nomadi che in corteo hanno raggiunto il municipio per protestare, non si parla d'altro. Da un lato alcuni cittadini si chiedono dove verranno sistemate queste persone una volta abbattute le loro abitazioni e credono sia opportuno aiutarle. Non sono né contenta né scontenta, la decisione è stata presa dal sindaco e questa mi può star bene. L'unica mia perplessità è sapere dove vengono portati poi queste persone, perché comunque si tratta di persone e non si possono lasciare in mezzo alla strada. Lì nel bene o nel male avevano una loro situazione. Troviamo una soluzione, cioè hanno bisogno anche loro di lavorare, di essere sentiti. Insomma, del resto sono gente tranquilla, mi pare, non è gente che fa cacciara, roba del genere. Per cui diamogli la mano, insomma, diamogli incontro a sta gente. Dall'altro lato alcuni cittadini sostengono il sindaco Cassani e chiedono il rispetto della legge contro ogni abuso. Io sono pienamente solidale col sindaco Andrea Cassani della Lega di Gallarate, perché è giusto rispettare la legalità per tutti. Abbiamo le leggi, le leggi vanno rispettate. Se 15 anni fa si è fatto un contratto, quello deve valere. Questa gente deve dimostrare prima di tutto che lavoro fa per fare quello che fanno, perché io l'ho saputo stamattina parlando così, che si comprano dei terreni, e allora compri un terreno, ti costruisci, chiedi in comune, come fanno tutti, chiedi in comune, le leggi come facciamo noi e ti costruisci la tua casa. Tra le voci che si fondono in piazza anche quella di Paolo Caravati, vice sindaco della città nelle Ramucci, che ai nostri microfoni ripercorre la storia dei sinti a partire da 15 anni fa. Sta succedendo che purtroppo i sinti non hanno rispettato le condizioni più importanti contenuti nell'accordo che avevamo stipulato 15 anni fa. Non hanno rispettato i confini, non hanno rispettato il numero di persone che dovevano essere nel campo, non hanno rispettato le famiglie perché sono aumentate, ce ne sono state di nuove eccetera e non hanno pagato tutte le utenze di cui hanno usufruito. Per cui ovviamente il contratto non è stato rispettato da loro e sta al sindaco decidere di fare quello che deve fare. Se fossi io sindaco abbatterei tutto quello che è abusivo e darei tempo, sei mesi, per allontanare le persone che vanno al di là del numero 40 che erano inizialmente. Tante voci e tante opinioni, ma il dado ancora non è stato tratto. Fondamentale l'incontro previsto nelle prossime ore e che vedrà allo stesso tavolo ancora una volta il sindaco Cassani e alcuni rappresentanti del campo di via Lazzaretto. Riusciranno a trovare un accordo capace di frenare le ruspe o la demolizione sarà inevitabile? A proposito di gallarate, carabinieri al lavoro in un quartiere popolare di Sommalombardo, un cane antidroga fiutato ieri in un parcheggio sulla passaruota di una macchina in evidente stato di abbandono. Un panetto di 370 grammi di hashish già confezionato e pronto per la vendita che è stato prontamente sequestrato. Al lavoro anche i carabinieri di Laveno Monbello torna in carcere il trentenne responsabile della rapina a un'infermiera di Quasso al Monte avvenuta nel maggio del 2015. L'uomo è stato definitivamente condannato dopo aver trascorso un anno in custodia cautelare in carcere doveva scontare altri due anni di reclusione e versare una quota di 1000 euro. Infine una 44enne che cercava di forzare un distributore di cibi e bevande all'interno dell'ospedale di Busto è stata arrestata ieri sera dalla polizia in flagrante tentativo di furto con scasso. Dopo un breve inseguimento la donna è stata bloccata mentre tentava di fuggire da una finestra per lei sono subito scattate le manette. Voltiamo pagina sui social se ne leggono di tutti i colori e spesso a pagare le conseguenze sono le aziende. Succede anche con la fatturazione elettronica. Così Fabio Lunghi presidente della Camera di Commercio. In buona sostanza la fatturazione elettronica è un modo per azzerare gradualmente lo spreco della carta ma anche e soprattutto per rendere ancora più trasparente il sistema della fatturazione. Certamente nel senso che la fatturazione elettronica evita alle aziende una serie di passaggi burocratici, evita lo spesometro per esempio, evita la conservazione dei documenti in formato cartaceo, traccia tutto perché l'agenzia delle entrate tramite il sistema di interscambio fa il postino quindi non avrà più bisogno di adempiere determinate funzioni. Se poi pensiamo che ci sono degli studi delle più importanti università italiane che dicono che gestire un documento cartaceo costa tra i 7 e i 13 euro e sono costi che le imprese non valutano quasi mai perché li danno oramai per scontati, facciamo il conto su un'impresa che emette 3 o 4 mila documenti all'anno tra emessi e ricevuti, ecco che risparmio è ogni anno non gestire più in modo cartaceo questi documenti. Qual è la principale difficoltà che lei riscontra negli imprenditori a avvicinarsi alla fatturazione elettronica? La più grande difficoltà che c'è in questo momento è proprio la conoscenza delle normative, pochi sanno come funziona veramente il flusso della fatturazione elettronica, c'è molta disinformazione, siamo nell'epoca in cui sui social network se qualcuno dice che i vaccini fanno male, fanno male, sui social network girano le voci più disparate che verrà rimandata, che la conservazione la farà l'agenzia delle entrate, cosa che non è assolutamente vera e tante altre sulle quali non vi sto a tediare adesso, ma insomma quello che manca oggi è la conoscenza, per questo che questi seminari sono super frequentati perché li facciamo con degli esperti di infocamere che è proprio poi il driver che viene utilizzato e spieghiamo anche alle aziende che hanno esigenze proprio micro che possono usare il portale della Camera di Commercio in forma totalmente gratuita, chi fa pochissime fatture può appoggiarsi a dei portali della Camera di Commercio in forma gratuita. Continuiamo a parlare di impresa ma lo facciamo in maniera completamente differente, ci concentriamo ora sulla parità del genere e sul ruolo prezioso della donna in azienda. Il punto D delle aziende, le donne, i numeri parlano chiaro, la quota femminile in impresa è fondamentale, basta che salga attorno al 40% perché la produttività cresca dell'8% circa, dunque le aziende che decidono di investire sull'equilibrio di genere risultano vincenti. Eppure in tutta Italia, seppur con minori criticità anche in Lombardia ancora molto resta da fare, a dimostrarlo il confronto con gli altri paesi europei più evoluti sotto questo aspetto. Lo sa bene Confartigianato Varese che proprio per favorire l'ingresso delle donne in azienda propone attività e incontri mirati agli imprenditori del territorio. Sono tutti concordi nel ritenere che per uno sviluppo della ricchezza e uno sviluppo del PIL in Italia bisogna soprattutto far crescere il tasso di occupazione delle donne. Perché questo? Perché noi siamo distanti veramente tanto rispetto agli altri stati, soprattutto del nord Europa. Ti do qualche dato, il tasso di attività, cioè vale a dire che è il rapporto fra la forza lavoro e la popolazione in età lavorativa, abbiamo in Italia un tasso di attività delle donne che è pari circa al 56%, benissimo. Bisogna sapere che nel nord Europa ci avviciniamo vicino all'80%. Cosa sta facendo proprio in questo senso Confartigianato? Proprio per questo, perché assolutamente tutti hanno capito che sono una componente essenziale, stiamo cercando in tutti i modi di favorire l'entrata soprattutto di nuove donne nel mondo del lavoro nelle piccole aziende, nel nostro tessuto produttivo. Ad esempio abbiamo aderito qualche mese fa alla rete territoriale di conciliazione, vite e lavoro con l'ATS, con capofila l'ATS in Subria e allo stesso modo abbiamo messo a disposizione di tutti i nostri associati una piattaforma welfare che a prezzi competitivi e con poca burocrazia riesce proprio a fornire il prodotto welfare ai nostri clienti, alle nostre aziende. Tra i prossimi appuntamenti in programma quello del 4 dicembre nella città Giardino, proprio rivolto agli imprenditori. Per conoscere i dettagli visitate il sito di Confartigianato Varese. E a proposito di donne, al suo debutto in consiglio provinciale la leghista Paola Reguzzoni parla ai nostri microfoni del lavoro che svolgerà ma anche dell'attuale presidente Bustocco Antonaldi così come l'ex presidente Marco Reguzzoni tra l'altro, suo fratello. Paola Reguzzoni, Lega, si è scelta una patata bollente di quella nemica da ridere. La sua, cioè stazione unica appaltante, la cabina regia degli appalti a livello provinciale non ci sembra partita nel migliore dei modi anni fa. E come può svilupparsi? Ma, dagli ultimi anni diciamo che sono stati pochissimi i progressi fatti sul progetto della sua. Bisogna mettersi a lavorare, mettersi in disponibilità per i comuni, bisogna fare un investimento sicuramente sul sistema informatico e bisogna magari colloquiare anche con dei consulenti privati immagino per monitorare i bandi europei perché troppo poche volte la provincia di Varese è destinaria di finanziamenti europei dove invece c'è un buon margine. Ma a tuo giudizio la sua non ha funzionato più per motivi politici, cioè c'era diffidenza nei confronti dell'amministrazione o più per motivi pratici? A mio avviso quando vengono date delle incombenze senza la possibilità economica di investire nel personale difficilmente si riesce a sviluppare delle professionalità che chiaramente prima della delega non erano interne dalla provincia di Varese. E siccome qua non si tratta di fare una o due gare d'appalto bisogna avere una macchina rodata, bisogna avere la possibilità o di assumere o di formare il personale. Come la storia in Italia vengono date deleghe ma non fondi e non capacità tecniche per poi svilupparle, presumo che almeno io oggi prendo questa delega, quindi presumo sia questo principalmente, almeno visto nel Comune di Busto il primo motivo di difficoltà è stato proprio nella formazione del personale. Dopodiché spero strada facendo di non incontrare altre brutte sorprese. Però direttore mi permetto una battuta, io stasera sono doppiamente contenta e in famiglia verrò sgridata per questo perché è il secondo presidente della provincia di Varese, Bustocco e mi onoro di essere la sorella del primo e quindi per me è un peso riportare il cognome Reguzzone in provincia di Varese. Perché deve essere sgridata? Non mi capito, va beh che c'è un caratteraccio il fratello ma sgridarla per questo è troppo. No va bene, va bene, è che lui ultimamente è scostante però insomma hanno ancora un piacevole ricordo e quindi sono contenta di vedere il secondo presidente della provincia di Bustocco. Allora un appello all'ex presidente Marco Reguzzone, il prossimo consiglio, la sorella in aula e il fratello in platea. Va bene, grazie. Allo stand di Gavirate si prepara a debuttare il liceo scientifico dell'esperienza, un nuovo indirizzo che unirà la teoria liceale sull'esperienza sul campo. A scuola si studia anche l'esperienza, inizia una nuova avventura per l'istituto Stendi di Gavirate. Dal prossimo anno scolastico debutta il liceo scientifico dell'esperienza, un nuovo indirizzo liceale che unisce la teoria con la conoscenza sul campo. Uscite, visite e contenuti che vanno oltre i libri. Abbiamo voluto dare al liceo scientifico tradizionale una curvatura che puntasse proprio sul fare, non per eliminare certamente la teoria dalla disciplina, ma per puntare su un aspetto più operativo, anche in considerazione di tutte le risorse, anche a livello di professionisti che il territorio ci offre. Cosa vivranno i ragazzi all'interno di questo liceo scientifico dell'esperienza? Beh, innanzitutto la nostra proposta è quella di allungare il tempo scuola di tre ore in modo tale da lavorare inizialmente molto anche sull'acquisizione di un metodo di studio più proficuo, più utile e certamente faranno visite e esperienze mirate all'esterno della scuola e avranno un taglio più operativo nello studio di alcune discipline, che non significa certamente eliminarle, ma approfondire un aspetto più operativo, pratico. Sabato 24 novembre sarà possibile conoscere meglio il nuovo indirizzo durante l'Open Day dell'Istituto, mentre sabato primo dicembre una tavola rotonda aperta a studenti, genitori e insegnanti racconterà quelle che sono le nuove competenze culturali e professionali in un mondo che cambia. Cosa sognate che abbiano questi ragazzi in più frequentando questo liceo scientifico? Un'apertura mentale più ampia che consenta loro di fare poi delle scelte più consapevoli e non importa che le scelte si traducano in un lavoro nel territorio, fuori dal nostro territorio o dove loro sceglieranno, ma sicuramente avranno un bagaglio in più, qualche marcia in più per poter scegliere. E a proposito di scuole, incontro toccante al Teatro delle Arti di Gallarate, papà Giampieto della Fondazione Ema Pesciolino Rosso ha incontrato gli studenti della Gadda Rosselli di Gallarate. Sono trascorsi cinque anni da quel tragico evento, da quel 24 novembre in cui Emanuele si gettò in un fiume sotto casa dopo aver ingerito una pastiglia di LSD, di droga sintetica. Papà Giampietro, sconvolto, devastato dal dolore, due giorni dopo prese una decisione in nome di suo figlio. Ho sognato che lo raccoglievo da quel fiume e a un certo punto mi sono svegliato, era le tre di notte, avevo tutto chiaro, dovevo dedicare la mia vita ai giovani, andare ovunque a raccontare attraverso la nostra storia il valore della vita e ho cominciato a scrivere una lettera, la scrissi quella notte, una lettera ad Emanuele che oggi è contenuta in un libro che si chiama Lasciami Volare che è nato dopo pochi mesi e in quella lettera oltre a raccontare la nostra storia insieme gli facevo una grande promessa che avrei creato proprio una fondazione per aiutare i giovani e da allora ho cominciato a andare su e giù per l'Italia, scuole, oratori, teatri, piazze. Ho tenuto più di 1300 incontri in cinque anni ed è meraviglioso quando alla fine di ogni incontro un ragazzo ti abbraccia con gli occhi lucidi e ti dice grazie, ecco da questo io, da questo grazie attingo la forza per andare avanti anche domani. Il Teatro delle Arti di Gallarate ha ospitato le classi terze e quarte dell'Istituto Gadda-Rosselli, una testimonianza toccante, significativa che è entrata nel cuore e nella testa di ragazzi e insegnanti. Parla loro al cuore, parla a loro di libertà, libertà prima di tutto dal cellulare, libertà dall'essere schiavi della canna, della droga, di riprendere i rapporti tra di loro, il dialogo con i genitori e anche per noi insegnanti questa cosa è una cosa, come dire, sempre da tenere presente perché affinché riusciamo a guardare nel modo, come dire, nel modo giusto ogni alunno e porre loro la domanda, porre loro delle domande, cioè non dare la frase di ascolto e giudico, ma ascolto e pongo delle domande, per cui i ragazzi si aprono. Ci spostiamo a Varese, serata divertente e di estrema attualità, quella all'Università dell'Insubria, un martedì sera, in compagnia dell'associazione studentesca Environ Metal e del monologhista Riccardo Mercadini. Volevo dirvi due parole su Environ Metal, chi siamo, cosa siamo, noi siamo un'associazione studentesca nata da studenti per gli studenti, il nostro obiettivo è quello di fare divulgazione scientifica su temi ambientali e naturali. Ironia e leggerezza per sentirsi maggiormente responsabilizzati verso l'ambiente, verso la natura, aumentando la cultura del rispetto del suolo, della propria casa, della terra, una vera e propria missione, quella dell'associazione Environ Mental, formata da un gruppo di studenti dell'Università dell'Insubria, che martedì sera ha accolto il poeta, monologhista, scrittore, narratore e ingegnere Roberto Mercadini. Non è che tu ti devi occupare dell'ambiente per un senso altruistico di affetto che hai verso l'aria, l'acqua, l'erba, gli alberi, perché hai visto un po' così l'ecologista da fuori, no? Da chi non è ecologista. Hai visto come uno che è... ma se non ha nulla qui pensare, non lo sai che pensare a queste cose, hai visto come uno che ha degli scompensi emotivi? La NASA ha scoperto qualche anno fa che il deserto del Sahara fertilizza la foresta amazzonica, ripetiamo, il deserto del Sahara fertilizza la foresta amazzonica, la foresta amazzonica, la mente più lussureggiante del pianeta, la foresta amazzonica, pappagalli multicolori, tucani dai vecchi fiammeggianti, colibrini decenti, un delirio di farfalle, pantere rane da cose fertilizzato dal deserto del Sahara, cioè sabbia che scivola sulla sabbia, che scivola su altra sabbia, fra la sabbia della sabbia, con la sabbia alla sabbia alla sabbia, con la sabbia nella sabbia. No, 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 c'è anche il cammello, beige, color sabbia. E' già tutto pronto a Busto Arsizio per celebrare il Natale, tante le iniziative in programma rivolte a bambini e adulti. Amministrazione comunale e associazioni del territorio insieme per accendere il Natale accade a Busto Arsizio dove è pronto il lungo calendario di iniziative per celebrare le feste coinvolgendo adulti e bambini nel segno della tradizione. Abbiamo deciso quest'anno, in collaborazione con loro che costituiscono il tavolo identità, di realizzare una mostra dedicata al Natale di una volta. Si intitolerà Uldi Natal, sarà ospitata nella sede di Palazzo Cicogna, la nostra pinacoteca, la sede delle nostre raccolte civiche e sarà una sorta di immersione nella storia del Natale a Busto Arsizio, con la ricostruzione di spazi interni delle case di una volta, con gli oggetti di una volta, con le poesie che venivano lette dai bambini e con tutto ciò che di originale i componenti delle associazioni culturali sono riusciti a recuperare. Hanno aperto gli armadi, hanno aperto le cassapanche, le cantine, i vecchi ricordi sono riemersi e saranno in mostra e sarà un Natale parallelo, un Natale all'insegna della storia e della tradizione locale. A tutti buonasera dal Centro Geofisico Prealpino. Domani al mattino ancora variabile, poi molto nuvoloso o coperto. Deboli piogge nel pomeriggio, più intense in serata e nella notte. Neve oltre 1200 metri. Temperature massime in calo, minime in lieve aumento. Basket, calcio ma anche pallavolo nello sport, una pagina sportiva ricchissima da non perdere tra pochissimo.